siamo dentro il ristorante dolce vita nuovissimo bello da provare da provare con valerio siamo qua con due clienti di dolce vita ristorante speciale abbiamo enrica ciao enrica tanto perché siete venuti qua perché qui ci hanno detto che si mangia benissimo ed effettivamente è vero ti chiami angelo ciao ciao come stai bene grazie ti piace dolce vita il post o bene allora questi qui stanno nominando degli amici che hanno all'interno del loro profilo hai capito amici amiche per venire qui a cena da dolce vita poi che verrete nominati o tu che verrai nominato devi venire qui dentro il ristorante restiti devi inserire dentro dolce vita ecco valerio deve nominare degli amici perché dovete venire dovete venire bisogna nominare chi nominiamo via nominiamo alessandra portis francesca stocchi e federico pocciati ti nominiamo lorenzo avrelli nomeno lorenzo zeppieri e daniele di cintio quali sono le tue amiche da nominare vai allora benedetta malgrande e il suo ragazzo e chiara lombardo nominecio nominecio un'altra un'altra mia cugina simona di viaggio e mia cugina ilaria di ernesto chi nominiamo dico gianluca franceschini di don lupara grande gianluca franceschini devi venire qui da dolce vita tonio de angelis paola pugnali davide della urentis apprezzanzaggio come è cognome cognome ambra alusti dovete venire a cena qui dolce vita a monte rotondo se non vengono che succede portiamo noi a forza e pagano loro venite venite qua si mangia benissimo va bene ciao 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 ragazzi ciao 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 ragazzi ciao sono clienti vanno via ciao ciao